Casa Moscati è una delle case di accoglienza gestite dal Centro Italiano di Solidarietà che fa parte delle opere fondate da Don Gaudiano. In questa casa, fin dall'82, vengono accolte persone, uomini e donne malate di AIDS. In questi anni vengono accolte 10 persone che vivono qui insieme con 10-12 operatori. Vivono qui 24 ore su 24 e in questa casa, insieme con gli ospiti, si passano quindi le giornate, si affronta la loro vita. Chi arriva in questa casa ci arriva perché a seguito della malattia ha avuto delle condizioni fisiche molto provanti e quindi può avere bisogno di un momento di cura molto importante, oppure può aver perso dei riferimenti abitativi, si può trovare privo di legami o avere altre malattie connesse, altre problematiche, a volte legate con le dipendenze, a volte con difficoltà emotive. Questo non ha importanza in realtà poi ai fini di poter dire che cos'è Casa Moscati o che cos'è una casa di accoglienza perché molto spesso quando spieghiamo che cos'è Casa Moscati il vero punto è chi siamo. Casa Moscati è, sono delle persone, siamo noi operatori o operatrici che ci lavoriamo e sono gli ospiti che qui ci vivono, i padroni, gli abitanti di questa casa. E molto spesso parlare di una casa di accoglienza in termini di quante persone ci lavorano, che cosa si fa, si perde il vero significato dell'esistenza di questi luoghi. Questi luoghi ci parlano di che cos'è il senso profondo della vita di ognuno, quello di lasciarsi aiutare quando si ha bisogno perché il grande coraggio delle persone che vivono qui dentro è aver scelto di curarsi, aver scelto di dire aiutatemi. E di contro c'è anche non tanto il coraggio ma il dovere, il diritto politico, umano di ognuno di noi di essere accoglienti, di non lasciare nessuno indietro. E in ogni attività, in ogni luogo lavorativo o di vita questo è possibile. Ecco perché poi qui a Casa Moscati a volte uno si chiede che cosa succede. Succede quello che succede nella vita di tutte le case. Ci si prende cura delle malattie, ci si prende cura dei momenti belli, delle difficoltà, si cercano di raggiungere obiettivi. I nostri ospiti dicono sempre una cosa, la vita non è fuori, la vita è anche qui dentro. E per questo noi con i modi in cui possiamo ci prendiamo la vita. Ce la prendiamo laddove ha bisogno semplicemente di cure, laddove purtroppo è una vita faticosa, ma ce la prendiamo anche con il divertimento, l'affetto e il coraggio di non mollare mai. È anche vero che Casa Moscati sopravvive e va avanti grazie anche ai finanziamenti, alle rette che l'Asur dà per ognuno di questi ospiti. E questo permette anche una qualità delle cure, della gestione di una struttura comunque impegnativa. Al contempo noi del CEIS ci prendiamo cura di tutto il resto della vita di queste persone e anche nostra, perché non è semplice gestire anche tutto ciò di cui una persona ha diritto, ovvero progetti, svago, la gestione di una casa, tenere gli ambienti belli, vivibili. E in questo molto spesso noi come CEIS, è il CEIS che si prende cura economicamente poi di tutte queste spese, anche con la generosità di tante persone che si rendono conto di quanto ci sia bisogno.